allora salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video macchina non volevo fare il video questa mattina però siccome ho un po di tempo ho deciso di farlo quindi sto senza la mia bibbia quella regolare e quindi dovrò usufruire della bibbia che ho in macchina quella piccolissima che non si vedono i caratteri e io sto senza occhiali quindi proprio una cosa incredibile niente poc'anzi stavo leggendo così ho detto fammi un po leggere i colossesi i primi versi e mi hanno colpito e quindi niente vogliamo nel nome del padre del figlio dello spirito santo che è benedetto in eterno leggere qualche cosa e riflettere su poche pochi versi allora paolo scusate ma io non vedo allora paolo apostolo di gesù cristo per volontà di dio e il fratello timotio ai santi e fedeli fratelli in cristo che sono in colosse grazia a voi e pace da dio nostro padre e dal signore gesù cristo io torno sempre a enfatizzare quello che ormai appunto asserisco da anni la parola di dio è chiarissima che c'è un padre un figlio è uno spirito santo e ribellarsi a questa verità a questa realtà è molto pericoloso perché in questa verità della trinità si trova la vita eterna tu non puoi separare le due cose trinità e vita eterna non lo puoi fare e se tu separi la vita eterna dalla trinità nel nome di un ragionamento umano che è ignosi tutto ciò che è umano e ignosi e se tu fai un battesimo nell'acqua solo nel nome di gesù asserendo come fanno alcuni ciarlatani di essere trinitario come dire non cambia secondo costoro e se non cambia perché non lo fai nel nome della trinità dal momento in cui il 95 per cento il 90 per cento quello che sono trinitari scandalizzi la maggioranza no quindi si trova davanti spiriti ignostici spiriti antitrinitari quindi la parola di dio è sempre stata molto chiara in questo gli apostoli che hanno posto il fondamento sono sempre stati molto chiari in questo c'è un padre un figlio e uno spirito santo e se tu non accetti questo tu non puoi avere la vita eterna perché la vita eterna non può essere separata dalla trinità perché la vita eterna si è concretizzata nell'opera della trinità noi rendiamo grazie a dio padre del signore gesù cristo quindi ok lo ripete nuovamente guardate quanta enfatizzazione ok padre del signor nostro gesù cristo pregando continuamente per voi wow gloria al padre gloria al figlio quando noi preghiamo la preghiera la facciamo al padre e nel nome di gesù e per la forza dello spirito santo perché voi non sapete come pregare ma lo spirito santo interviene presso di voi quindi c'è l'opera della trinità nella salvezza nella vita eterna nel cammino del credente perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in cristo gesù e del vostro amore verso tutti i santi l'amore che sia per i santi l'amore che sia per la chiesa di gesù cristo l'amore che sia per i fratelli l'amore che sia per il pastore per i pastori per i servi per gli anziani l'amore che i servi gli anziani i pastori i ministri hanno per le pecore l'amore è il fondamento l'amore è tutto l'amore non è solo carezze ma è anche verga perché dio verga e anche i genitori vergano non risparmiare la vergola al fanciullo e anche i ministri vergano con la verga della della favella della lingua della parola la verga l'amore è tante cose ok uno che ama verga come dire o tu che cosa stai facendo dove stai andando cosa stai per dove stai camminando e così via discorrendo quindi attenzione al concetto che si ha nei confronti dell'amore l'amore ha più sfaccettature ma eppure sempre è amore a motivo della speranza che è riposta per voi nel nei cieli di cui avete già sentito nella parola della verità dell'evangelo noi abbiamo una speranza riposta nei cieli e quindi se abbiamo questa speranza noi speriamo altrove è scritto sì è vero noi speriamo in ciò che non vediamo però noi comunque vediamo per fede e comunque noi abbiamo una certezza immarcescibile ok che le cose che oggi non vediamo comunque esistono sono reali e quindi siamo pellegrini e quindi noi sappiamo che ogni cosa sarà bruciata sulla terra e quindi non riponiamo la nostra affezione naturale nelle cose visibili piuttosto nelle cose invisibili che è giunto a voi verso 6 come pure in tutto il mondo questo vangelo è giunto in tutto il mondo porta frutto come avviene anche tra di voi porta frutto il vangelo attenzione a come dire a circoscrivere il frutto in una sola azione ovvero il frutto dell'evangelo non è solamente la salvezza delle anime ovvero il frutto dell'evangelo è anche la il castigo delle anime perché quando l'evangelo viene predicato questo porta frutto ovvero se credi porterà frutto a vita eterna se non credi porterà frutto a pena eterna e comunque la parola non torna a vuoto porta frutto quindi non siamo miscredenti piuttosto credenti dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità da quel momento noi abbiamo una grande responsabilità come avete anche imparato da quale è un fedel ministro di Cristo per voi ok io non è che ci vedo un granché e che ci ha anche dichiarato il vostro amore nello spirito infatti sta parlando di epafra e perciò anche noi dal giorno in cui abbiamo sentito questo non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà ecco questo verso mi ha colpito fra i tanti quindi essere ripieni della conoscenza però della sua volontà perché c'è una volontà generale scritta nella Bibbia ma poi c'è una volontà personale cioè la volontà generale è che ne so ci sono ministeri ci sono cinque ministeri ci sono doni ci sono opere ci sono operazioni ci sono talenti questo come volontà generale però nessuno ha tutto quindi ognuno di noi riceve una chiamata personale nella sua volontà quindi io posso essere chiamato a fare questo tu puoi essere chiamato a fare un'altra cosa e così via discorrendo ecco qui l'apostolo sta parlando di questa conoscenza cioè la conoscenza della sua volontà in ogni sapienza intelligenza spirituale e quindi non c'è nulla da fare dobbiamo essere spirituali e come si fa fratello Alessio a essere spirituali guarda è un cammino si nasce di nuovo e praticamente l'Evangelo deve essere l'epicentro della tua vita se l'Evangelo è l'epicentro della tua vita non ha parole affatti quindi tu vivi per l'Evangelo hai la tua vita il tuo matrimonio il tuo lavoro tutto quanto non è questo ovviamente sono cose che dobbiamo fare ma l'epicentro è l'Evangelo quindi tu vivi per l'Evangelo pensi all'Evangelo mediti all'Evangelo leggi l'Evangelo vivi l'Evangelo metti in pratica l'Evangelo frequenti la fratellanza hai interessi hai la tua mente nell'Evangelo prega il Signore cerchi la sua faccia cerchi la sua presenza cerchi la sua volontà cerchi le sue esperienze cerchi il battesimo dello Spirito Santo cerchi di mantenerlo acceso allora tu crescerai e man mano conoscerai qual è la sua volontà nella tua vita in conoscenza e non una conoscenza sterile ma una conoscenza in sapienza intelligenza spirituale e facendo queste cose voi non sarete oziosi non sarete pigri dirà Pietro perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio quindi le opere sono molto importanti noi non siamo salvati per opere perché siamo salvati per grazia mediante la fede Efesi 2.8 ma subito dopo entrati nella grazia noi manifestiamo la fede e la fede si concretizza nelle opere cominciando dalla santificazione fino a tutte le opere che e il cristiano fa che sono tante quindi le opere dimostrano quello che c'è nel nostro cuore se nel nostro cuore siamo salvati c'è la fede la fede produce opere quindi entrati nella salvezza per fede mediante la grazia non per opere la fede concretizza opere cominciando dall'amor fraterno fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza per ogni perseveranza e pazienza con gioia la certezza la presenza di Dio l'Evangelo di Gesù Cristo produce gioia in mezzo le prove alleluia gloria a Dio che avremo sempre avremo prove avremo sofferenze avremo malattie perderemo dei cari dovremo affrontare tragedie e chi più ne ha più ne metta guarda anche i nostri fratelli della chiesa perseguitata preghiamo per loro in tutto questo noi sentiamo la gioia del Signore rendendo grazie al Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei Santi della Luce quindi rendiamo grazie al Padre non dice al Figlio ovviamente noi ringraziamo il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo l'odiamo al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo però preghiamo il Padre nel nome di Gesù per lo Spirito Santo qui dice di ringraziare il Padre che non è il Figlio attenzione a rinnegare la Trinità, a essere antitrinitari perché ci si gioca l'anima per sempre Signore ci scampi, ravvedetevi ravvedetevi antitrinitari non tentate Dio, non tentate il suo amore, la sua pazienza, la sua longaminità perché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati del regno del suo amato Figliuolo un regno di luce siamo trasportati, siamo stati trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce dove non c'è confusione, non c'è Babilonia dove tutto brilla, tutto luce in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue noi siamo stati redenti non per opere giuste che avessimo compiute ma per il sacrificio di Cristo il perdono dei peccati egli è l'immagine dell'invisibile Dio primo genito di ogni creatura primo genito di ogni creatura egli è colui che ha creato tutte le cose egli è Dio, egli è Dio eterno primo genito di ogni creatura perché si è fatto uomo un giorno e lui ha la primo genitura in tutto come uomo cominciando dalla risurrezione dei corpi dei morti egli è Dio fatto uomo per intercedere per noi prima Timotio 2,5 unico mediatore presso Dio e gli uomini Gesù Cristo uomo a lui sol sabio va da sempre la lode e la gloria da sempre in eterno Dio ti benedica una piccolissima meditazione domenicale che ti può aiutare spero sia stato di aiuto e di benedizione questo brevissimo video con voi come sempre Alessio Evangelisti Shalom